Come lo diamo, che pena mi fa, e quando ho letto lui mi chiederai, e la concederai. Perché tu fai così, come c'è chi ti è, se mi raccomodo, non esisto che sei, e ora ti so di più. Ma se andrai di là, e la dimostrerò, e questa volta tu, te la ricorderai. E adesso sto a dire, come se fare tu, te la ricorderai, ma no, non iluderti, e ora ti soffro più. E adesso sto a dire, come se fare tu, te la ricorderai, ma no, non iluderti, e ora ti soffro più.